Il giovane segretario del Partito Comunista Aquilano, Andrea Petrelli, assieme al segretario regionale Antonio Macera e Giuseppina Lauri, lancia la propria campagna di tesseramento nel centenario della sua formazione, 1917-2017. L'intenzione è quella di dare nuovi impulsi per la risoluzione di tematiche importanti come l'adeguamento sismico nelle scuole e negli edifici pubblici, l'emergenza lavoro, i fondi 4% restart da investire nel sociale e non solo nell'abitativo, l'importanza del valorizzare il settore cultura per rilanciare un territorio ricco di storia e bellezza come quello aquilano, mentre per ricompattare il tessuto sociale giovanile sfibrato dall'assetto post-sismico della città e dare nuovi input ai giovani il connubio fra sport, associazioni dilettantistiche e scuola. Diciamo che non è una priorità ma è un'emergenza, purtroppo ereditata da dieci anni di governo del PD che è quella della sicurezza delle scuole, quello è il tema principale perché veramente il futuro dei nostri figli, dei ragazzi, della popolazione giovane all'Aquila è la prima cosa. Se non si vive in una città sicura non si può andare da nessuna parte. Altra cosa che è una priorità tipica del PD è quello di stare vicino ai lavoratori, ossia il lavoro. Senza lavoro non c'è dignità e se non si investe, se non si crea un tessuto economico produttivo il più presto possibile si rischia che in città rimangano veramente quattro gatti. Come si muoverà il Partito Comunista a livello locale e territoriale? Principalmente il Partito Comunista, da come è stato, come è descritto pure il segretario della sezione, svolgerà un compito di tesseramento e di allargamento proprio sul territorio. Ma in realtà poi ci muoveremo in maniera diversa, cosa che comunque forse le altre forze politiche qui all'Aquila non hanno mai fatto. Andremo con la gente a organizzare un programma, a fare determinate scelte che poi serviranno in seguito per le prossime elezioni e saremo pronti fra cinque anni, a prescindere dalle lotte che faremo anno per anno, tra cinque anni saremo pronti per presentare un progetto fatto da cittadini con le idee del Partito Comunista Italiano.